Un ringraziamento forte a Claudia perché dà tutto la perfezione, tutto veramente, l'organizzazione, anche a Chiara, che è stata qui con noi, il ritestato è bellissimo, mi sono emozionato, ho pianto perché si veda, perché non ho più il trucco, è tutto bellissimo. Claudia adora la pizza, ti dobbiamo offrire una pizza, a te a Chiara ci stai dobbiamo offrire due pizze, quando vuoi, quando volete, un bacione, un bacio, ciao, e grazie mille di tutto, grazie. Grazie.